non c'è il flash perchè non hanno inventato il flash nelle dirette la sua strada aranzata ti piace Miami? non ci sono mai stata è rotto è rotto con te ho già cenato qui sono le 9 guardate dove sono seduto sdraiato mi è venuta in mente una scena che potrebbe succedere dopo te la dico mamma ma rimani qua così mi fai un po' di flash che ne dici ah mi devi scattare una foto raga la volete la foto? questo vestito mi sono ben accorta che c'è una persona lì no mi vergogno si 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 è un ragazzo no raga raga io io ormai non ho più a che fare con i ragazzi non ho più a che fare con i ragazzi non ho più a che fare con i ragazzi così io mi offendete ogni volta non si può no bere cara prima di ieri io un ragazzo non ci parlo da una vita non ho più a che fare con i ragazzi è zero in persona raga no raga quando si può bere mi fai ridere so io intendo che mamma parla un po' anche tu fammi domande fammi domande allora adesso dirai del perché io non trovo un ragazzo spiega i miei difetti che ne so io perché non trovo i ragazzi perché mi dai spiega i miei difetti grazie papà grazie papà fa paura mia amica mi giro mi giro mi giro dalle spalle a mamma no non è oddio degli altri ragazzi mamma sono in panico io mi voglio sotterrare no diciamo che va bene così ecco ecco anche io voglio andare a fare amicizia ma non ne sono capace mamma mamma ce ne sono degli altri sei abbronzata sì cioè un pochettino mi sono un po' mi sono abbronzata comunque ho il vestito rilla quello delle storie ragazzi dove siete stati oggi a vedere il vlog domani abbiamo fatto un'escursione alla sandbank bank I don't know mi dovrò informare prima di fare il vlog domani abbiamo un'altra escursione mamma mia raga che freddo che ho ma non perché c'è freddo perché cioè si sta benissimo non c'è quell'afa cioè fa caldo ma io ho freddo perché oggi ho preso un sacco di sole e quindi quando prendete il sole almeno a me viene freddo perché mi ha preso tanto comunque io non vedevo l'ora che venisse cioè venisse le staglie vabbè non vedo l'ora di ancora ne state però non vedevo l'ora di abbronzarmi perché raga c'è letteralmente guardate senza cioè col mascara e col mascara e con il correttore c'è la base perfetta c'è la base non c'è niente il blush il blush del sole del sole top raga top sì sono a posto la vita passa vorrei vorrei essere così cioè vorrei fosse sempre estate anche per questo comunque il blush bella sei comunque il vestito che ho messo nelle storie prima lo ho detto sera volevo scattare una foto devo vedere però come vengono perché doveva arrivarci ieri non oggi sì però sicuramente vi chiamerò in questi giorni però quando torno doveva arrivare ieri che fai domani ho un'altra escursione però non vi dico dove faccio vedere domani direttamente ah un'altra cosa siamo tre ore in avanti non cinque perché ieri erano quattro però essendo che avete cambiato l'orario stanotte in Italia adesso sono tre io pensavo che andassero a cinque vabbè raga io vi saluto vado a fare qualche foto credo non lo so basta love you ciao 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 Grazie.